Assessore Anna Rita Ottaviano, ieri in consiglio comunale l'approvazione di un importante provvedimento, la riduzione del latari sia per le attività commerciali che per le famiglie. Spieghiamo dettagliatamente questa riduzione, che cosa prevede? Per quanto riguarda le utenze non domestiche, il Comune di Torre de Greco ha messo a disposizione un fondo pari a un milione e due. Ovviamente si tratta di fondi Covid provenienti dallo Stato, d'aiuti di Stato e consiste praticamente nella riduzione pari al 100% per il primo semestre per il 2021. Tutte le attività che hanno subito un calo di attività, un calo di fatturato a causa del Covid avranno questa esenzione. Stiamo parlando di ristoranti, di alberghi, di bar, di pasticcerie, di parrucchieri, estetisti, eccetera, eccetera. Poi ci sono i codici che indicano quali sono le attività. Ed è una riduzione pari al 100% per i primi sei mesi, quindi non dovranno pagare nulla? Non dovranno pagare nulla, ma bisogna comunque presentare una domanda al Comune per dimostrare la riduzione che si avuta. La stessa ipotesi è posta anche per quanto riguarda le utenze domestiche. Vuol dire che praticamente il Comune di Torre de Greco, in riferimento a un fondo di solidarietà a disposizione della famiglia, l'ha messo a disposizione per la Tari. Si tratta di un fondo di 1.400.000 e quindi sarà utilizzato fino a concorrenza. Questo vuol dire che tutte le famiglie con unise fino a 10.000 euro avranno una riduzione della parte variabile del 50%, fino a 15.000 euro del 30% e unise fino a 24.000 euro pari al 20%. Gli uffici di Torre de Greco in questo momento sono già in collaborazione con la Pubblico Servizi per stabilire la documentazione. Fra poco sul sito del Comune di Torre de Greco sarà pubblicata la modalità che entro il 15 ottobre tutti gli interessati dovranno far prevenire la domanda al Comune per poter soffrire delle esenzioni. La prima rata sarà pagata entro il 30-11. Saranno rati bimestrali, gennaio, marzo e maggio. Quindi è una novità importante che il Comune ha voluto soprattutto per far fronte alle difficoltà economiche legate alla pandemia. Sì, ma soprattutto anche perché il Comune di Torre de Greco è tra le città della Campania che ha subito maggiormente. Ci sono stati degli incontri con i commercianti, i quali ci hanno attenzionato più volte sulle difficoltà che hanno incontrato sia nel corso del 2020 e anche all'inizio del 2021. E quindi è stato un ascolto da parte del Comune. Ci sono stati fondi messi a disposizione da parte del Governo. Potevamo utilizzarli in maniera differente, ma abbiamo preferito utilizzarli in tal senso e accontentare sia le attività non domestiche che le famiglie. Perché ci sono anche tante famiglie che hanno subito questa crisi. Vuoi perché hanno perso un posto di lavoro, perché sono stati messi in cassa integrazione e anche perché sono stati colpiti dalla stessa pandemia che ha messo un po' in ginocchio. E quindi è un modo per dire alla popolazione il Comune c'è, il Comune ascolta ed è stato proprio questo l'indirizzo politico da parte del Sindaco Giovanni Palumba.